E quest'oggi siamo in uno dei simboli più belli della fede nella nostra provincia, siamo qui nell'arci confraternita del purgatorio a Pulsano. Tradizioni antichissime, cosa accade il giovedì e il venerdì santo? Giovedì santo naturalmente, così come nel centro cittadino a Taranto, c'è il pellegrinaggio dei cosiddetti perduni. C'è la prima coppia che si affaccerà al portone della chiesetta alle ore 17, il pellegrinaggio terminerà alle 24, per riprendere la mattina di venerdì santo alle 6 e chiudere praticamente il pellegrinaggio al mezzogiorno di venerdì santo. Ecco, un'arci confraternita, ci tenete molto a questo titolo giustamente perché fotografa un lavoro antico, molto antico. Certo, è un riconoscimento avuto da Monsignor Filippo Santoro nel 2013 e quello che ci onora ancora maggiormente è l'affiliazione a Roma, l'arci confraternita del Carmine, perché noi siamo sotto il titolo comunque del Carmine, madre e capo di tutte le confraternite del Carmine del mondo. Le confraternite e le arci confraternite nel 365 giorni fanno opere di bene, di carità, di sostegno e in un momento difficile come si vive a livello internazionale, con una guerra in corso, tante tristezze, tanti lutti, l'anelito di pace perché per tutti ci sia una Pasqua. Sì, l'augurio che ho sempre fatto. Noi non dobbiamo preoccuparci, prima parlavamo dei riti, abbiamo parlato del pellegrinaggio, quindi noi abbiamo anche la processione degli augusti misteri, processione che è nata già con la stessa confraternita del capitolo VI, ci impone di organizzare ogni anno questa processione. Ma noi abbiamo riscoperto, soprattutto negli ultimi anni, grazie all'input che ci ha dato il nostro arcivesco, Monsignor Santoro, abbiamo riscoperto il ruolo della carità, che era passato in secondo piano rispetto all'incremento del culto. Oggi svolgiamo a pieno questo nostro ruolo, soprattutto preoccupandoci dei meno abbienti, facendosi segnalare dai servizi sociali del Comune nomi di famiglie bisognose e in tutta segretezza noi provvediamo a cercare di sostenere queste famiglie bisognose.